Prepariamo una pasta e ceci dal sapore speciale. La sapidità delle vongole, unita alla polposità e alla dolcezza dei ceci, darà vita ad un capolavoro di bontà. Cremosa, ghiotta e gustosa, questa pasta e ceci sarà amore al primo assaggio. E vedi che ti mangi! Mettiamo le vongole a bagno in acqua fredda con un pizzico di sale grosso e lasciamole spurgare per almeno un'ora. Passiamole sotto l'acqua in modo da eliminare il sale e gli eventuali residui di sabbia. Tritiamo i gambi del prezzemolo. Con il palmo della mano schiacciamo l'aglio, otterremo così l'aglio in camicia. Facciamo rosolare l'aglio con i gambi del prezzemolo e un goccio d'olio. Aggiungiamo le vongole e sfumiamo con un goccio di vino bianco. Lasciamole evaporare e aggiungiamo mezza tazzina di acqua. Copriamo con il coperchio e lasciamole cuocere per qualche minuto a fiamma viva fino a quando non inizieranno ad aprirsi. Di tanto in tanto scuotiamo la padella in modo da facilitare l'apertura. Man mano che si aprono trasferiamole in una ciotolina. Sgusciamo tutte le vongole lasciandone però qualcuna con il guscio che ci servirà per la decorazione del piatto. Riponiamole in una ciotola e ricopriamole con il loro liquido rilasciato in cottura, ben filtrato con un setaccio o un colino. Servirà a mantenerle morbide e umide. Prepariamo la crema di ceci. Uniamo un po' di ceci, un po' dell'acqua di cottura delle vongole e un cucchiaio d'olio. Frulliamo il tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea. In una capiente padella facciamo rosolare uno spicchio d'aglio schiacciato con un po' d'olio e un po' di peperoncino. Uniamo anche i ceci e i pomodorini tagliati a metà e insaporiamo il tutto con un pizzico di sale. Aggiungiamo un po' di prezzemolo tritato, un rametto di timo e un rametto di rosmarino. Lasciamo cuocere il tutto a fuoco dolce girando di tanto in tanto. Appena l'acqua bolla aggiungiamo un pizzico di sale grosso e cuociamo la pasta. Io ho utilizzato di taloni rigati, in Puglia li chiamiamo tubettini. Dovremo scolarli al dente, circa 5 minuti prima del loro tempo di cottura. Prima di scolare la pasta eliminiamo le erbe aromatiche e aggiungiamo 3 mestoli di acqua di cottura nella padella con il condimento, che dovrà essere ben calda. Vi consiglio però di tenere da parte un po' d'acqua di cottura da aggiungere all'occorrenza. Mi raccomando, la padella dovrà essere ben calda e il sughetto dovrà bollire. Scoliamo la pasta molto al dente e aggiungiamo la restante acqua di cottura delle vongole. Proseguiamo la cottura a fiamma viva girando continuamente fino a quando tutti i liquidi non inizieranno ad asciugarsi. Non troppo però devono comunque restare brodosi. Quando i liquidi iniziano ad asciugarsi aggiungiamo la crema di ceci e amalgamiamola alla pasta. Possiamo aggiungere le vongole e proseguire la cottura per altri pochissimi istanti. Terminiamo con una pioggia di prezzemolo tritato e voilà! La pasta con ceci e vongole è pronta per essere gustata. Cremosa, ghiotta e profumata sarà un piccolo capolavoro di bontà. La pasta con ceci e vongole è un piccolo capolavoro di bontà.